Ospis, solo promettias, e regalo serrao. Sono malabie os oncologico, se sono incadenaosa e niente del reparto del donchello può protestare. Si storia dei ospis, sul reparto del ispidale donchello di Nugro non finiti. A posto di troppo tempo, se regalo serrao, abbiamo promettio e doppia da perdere sul 27 di abrile e in bezzas ussas promettias non sono esteti armantesas. In Parizzo, il malabie os oncologico dell'Associazione Vivere a Colori si sono incadenaosa e niente dei ospis e speranzoso depone fine a questa serrada. Benza a sordi liberi. Sono inquietti per questa decisione di lasciare un zio sul reparto. Hanno scritto una lettera poi di dire tutti i sordi spiegare e poi di mandare a questa omissaria di si dimittere. Amore di io, i sospinos che avevano posto la omissaria dottoressa a Kerchi non sono esteti armantesos. A posto di Parizzo di protesto nostri, di tutta la città di Nugro e di parizzo amministratore di servizio della provincia, la dottoressa a Kerchi aveva dato il 22 di abrile da esusito della T.S. Sardinna e il 26 di abrile sul reparto di giudonchello torrava da tribolare o mente a prima. Anzichia a scrivere a Kerchi si dimittra da esusito di ballo e tutto il popolo nugureso e della provincia di Nugro non accade di protestare. Venza a sordi ospiti, non deve essere tornato a perdere.